Il rapporto IRPET sui divari di genere in Toscana, nell'auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso, su iniziativa della Commissione regionale per repare opportunità presieduta da Francesca Basagneri. Inaugurata l'esposizione fotografica Voci di Libertà, al Centro Expo di Palazzo del Pegaso, le immagini dedicate ai combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Certaldo Arte 22, a Palazzo Pretoria Certaldo, una serie di esposizioni di artisti toscani Luigi Montanarini, Giampaolo Talani e Claudio Cionini. Donne alle prese con lavoro, reddito, competenze, tempo e potere. Ne parla di vari di genere in Toscana. Il rapporto dell'IRPET, l'Istituto regionale di programmazione economica della Toscana, presentato a Palazzo del Pegaso. Quella proposta dall'IRPET è un'analisi strutturale condotta su input della Commissione per le pare opportunità della Toscana presieduta da Francesca Basanieri. Penso che serva comunque continuare, continuare, continuare perché se anche la Toscana è una delle regioni che ha lavorato di più in questa direzione c'è ancora tanto da fare. Ringrazio la Commissione pari opportunità, svolge un lavoro enorme, ha voluto approfondire quello che è ancora il gender gap che esiste purtroppo, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, riguarda le retribuzioni, c'è ancora una differenza enorme. Riguarda il numero di amministratori delegati, i direttori generali e riguarda anche le differenze che ci sono nelle nomine pubbliche. Noi abbiamo fatto una norma, prima regione italiana, che davvero permette la parità di genere e l'abbiamo fatta con fatica, non è stato semplice. Io penso che buona politica sia quella che riduca queste differenze di genere, che riduca le disuguaglianze tra territori e la sfida collettiva va in questa direzione. La Toscana che io immagino, la Toscana del 2050, io spero davvero che si sia annullato completamente, anzi che si sia ribaltato, vuol dire che abbiamo investito culturalmente nella direzione giusta. È una sfida collettiva, serve l'impegno di tutti e noi come istituzione e consiglio regionale abbiamo fatto, facciamo e faremo la nostra parte. Emerge il fatto che ancora c'è molto lavoro da fare per raggiungere la parità dal punto di vista lavorativo per le donne. Le donne ancora fanno fatica a entrare nel mondo del lavoro, sebbene in Toscana comunque il tasso di occupazione sia piuttosto alto anche rispetto all'Italia, ma le tipologie di lavoro che vengono fatte sono sempre di un certo tipo e queste tipologie non danno l'opportunità alle donne né di crescere dal punto di vista della carriera né dal punto di vista del reddito. In più si evidenzia un aspetto, la maternità è ancora un momento di spartiacque nella vita lavorativa di una donna. Dopo la maternità con anche soltanto un figlio, ma ovviamente la cosa peggiora con due o tre figli, comunque le donne o non rientrano nel mondo del lavoro o fanno il part time. Comunque il lavoro di cura dei figli è sempre demandato alla donna e questo chiaramente le penalizza dal punto di vista del lavoro. La regione toscana è sicuramente nel panorama nazionale una delle regioni dove tanti passi sono stati fatti, ma tanti ancora sono da fare. Un dibattito anche europeo che parte dalle piccole cose, per piccole cose intendo i tempi delle donne, ovvero costruire tutte quelle piccole azioni quotidiane che consentano alle donne di poter svolgere al pari degli uomini alcune tipologie di lavori, ma anche creare un clima culturale dove l'uomo e la donna e le figure che si alternano nella gestione quotidiana dei lavori, della famiglia, possono avere una ripartizione equa. Per fare questa le istituzioni possono fare molto, possono dare una mano, ma prima ancora di questo c'è bisogno fin da piccoli di allevare i nostri cittadini e le nostre cittadine in una maniera diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati nel secolo scorso. E quindi avere dei bilanci e delle azioni che fin da piccoli abituano a ripartire i compiti e le risorse sia agli uomini che alle donne, ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine. Questo proviamo a fare. In questa ricerca riportiamo una serie di dati quantitativi che descrivono un po' il divario di genere, affrontato soprattutto nelle varie sfere, quindi nel mondo del lavoro, con i tassi di occupazione e i tassi di attività delle donne che permangono, sebbene la Toscana sia ai livelli delle regioni del centro nord, permangono però anche da noi, e poi ai dati relativi al lavoro di cura che è ancora prevalentemente sulle spalle delle donne. E quindi per capire i divari di genere bisogna adottare un'ottica un po' multidimensionale e si nota benissimo come le donne guadagnino meno degli uomini perché lavorano nei settori che sono peggior retribuiti, hanno più contratti part time e quindi lavorano effettivamente meno ore e questo porta poi a un dato composito di salari più bassi e nel futuro di pensioni altrettanto più bassi. È un orgoglio ospitare in Consiglio regionale questa mostra perché racconta una pagina di storia poco conosciuta, quella dei soldati italoamericani che durante la Seconda Guerra Mondiale combatterono in Italia per liberarla dal nazifascismo. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, intervenendo al Centro Expo di Palazzo del Pegaso all'inaugurazione della mostra fotografica Voci di Libertà, i combattenti alleati di origine italiana nella Seconda Guerra Mondiale, curata da Matteo Petrelli e Francesco Fusi. Petrelli ha sottolineato che la mostra è il frutto di quasi dieci anni di ricerche negli archivi e nelle vecchie edizioni dei giornali, nonché dell'incontro con veterani o con i loro discendenti. La mostra proseguirà fino a venerdì 22 aprile. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito, ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina, i genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. Questa mostra è un modo per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi e credo che ricordarli oggi qui ho un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. I numeri sono difficili da quantificare, però possiamo ipotizzare che almeno gli italo-americani furono 850.000, poi furono svariate migliaia anche gli italo-australiani, italo-canadesi, italo-brasiliani e italo-britannici, però come dicevo non è semplicissimo stabilire un numero esatto. Originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti, vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però con la scoppia della guerra gli italiani all'estero si ritrovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si volle dimostrare il proprio filo-americanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. Sono ormai quasi dieci anni che facciamo ricerche in archivi sulla stampa e quant'altro, ma soprattutto questo è un lavoro che si basa su una forte empatia con veterani che abbiamo incontrati, ormai stanno scomparendo, ma ne abbiamo incontrati alcuni anni fa, ma anche con figli e figlie di questi veterani. Quindi si è creato un vero e proprio legame, una sorta di network perché i discendenti sono molto desiderosi di raccontare questa storia. Saranno Luigi Montanarini, Gianpaolo Talani e Claudio Cionini i tre artisti di cui Francesca Parri, curatrice e organizzatrice della mostra, parla a Palazzo del Pegaso illustrando Certaldo Arte 22, il cartellone delle mostre che per tutto l'anno accoglierà i visitatori di Palazzo Pretorio a Certaldo Alto. L'obiettivo dell'iniziativa, che attraverserà l'anno in corso per poi interessare anche l'inizio del 2023, è quello di offrire un punto di vista nuovo rispetto all'offerta artistica ospitata a Palazzo Pretorio, scommettendo ancora una volta sull'arte contemporanea e sulle sale dell'edificio simbolo del Borgo Medievale. La prima delle mostre a prendere il via sarà Luigi Montanarini, la pittura come Vita, opere dal 1925 al 1990. La mostra è inaugurata sabato 9 aprile e resterà visitabile fino al 16 giugno. Anima sola, viaggio a Finisterre è invece il titolo dell'esposizione dedicata alle opere di Gianpaolo Talani, visitabile dal 25 giugno al 22 settembre 2022. Infine, immaginare la realtà, prospettive, luci e atmosfere è il titolo della terza mostra dedicata alle opere di Claudio Cionini, protagonista a Palazzo Pretorio dal 1 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023. È bello davvero poter ospitare questo momento in cui si racconta come si riesce a tenere insieme la storia, la bellezza dei nostri territori. Il Palazzo Pretorio a Certaldo Alto, insieme alla bellezza di tutto il borgo, ospiterà collezioni di arte contemporanea. È un mix che rende bella e grande la Toscana, con i piedi ben radicati nella sua storia, nella sua bellezza, nei suoi valori, ma anche con la capacità di guardare al futuro. Sono davvero mostre da visitare. La mostra di Montanarini, che partirà sabato, poi quella di Talani, che ho avuto modo anche di conoscere personalmente, che racconta con occhio attento la Toscana di oggi. E poi un giovane, un ragazzo che avrà grandi prospettive. Ricordatevi questo cognome, Cionini. Credo che queste mostre rappresentano davvero bene quella che è la nostra idea. All'idea di partire dalla bellezza dei nostri territori e grazie all'arte, alla cultura, attirare ancora di più visitatori e portare la Toscana verso il futuro. Quindi grazie al Sindaco di Certaldo, grazie all'amministrazione comunale, grazie ai curatori, perché davvero Certaldo ancora una volta si dimostra città della cultura. Da sempre le nostre sperimentazioni di unione fra il Palazzo Pretorio, che è un palazzo medievale con degli affreschi splendidi, che ha sempre ormai da anni valorizzato l'arte contemporanea. Noi abbiamo promosso ormai da un po' di tempo questi percorsi artistici con queste mostre temporanee. Il Palazzo Pretorio ha delle sale bellissime anche con esposizioni permanenti, con museo permanente, ma ha tutto il primo piano a disposizione per queste mostre temporanee. ed è sempre stata la sua forza quella di essere un polo espositivo di arte contemporanea a livello toscano, che ospita continuamente mostre di carattere importante. Il nostro tentativo è sempre stato quello di allargare l'orizzonte, valorizzare gli artisti locali da una parte e allo stesso tempo portare artisti di livello nazionale e internazionale. Il Palazzo Pretorio è a disposizione dell'arte ed è a disposizione della qualità artistica. Il percorso di quest'anno, realizzato con l'apporto di Exponent, con la curatrice Francesca Parri, è sicuramente un onore e un orgoglio. Si rivolge innanzitutto all'arte toscana, alla nostra regione, e cerca anche di portare quella che è la produzione artistica dei toscani, del passato e del futuro, a livello per farli ulteriormente conoscere, ma soprattutto grazie a loro e alla loro internazionalità, far conoscere il nostro territorio, Certaldo, Palazzo Pretorio e il borgo medievale. In più, in un percorso assolutamente convincente e coinvolgente, perché si rivolge all'arte del passato in qualche modo, ma dà uno sguardo anche al futuro. Quindi la centralità della nostra regione, la centralità della nostra arte, grazie a quanto questi artisti sono importanti e alle esclusive anche artistiche che queste mostre portano a livello internazionale, noi valorizziamo anche Certaldo Alto, che sta dando importanti risultati anche nei numeri del turismo in crescita, anche post pandemia, e noi siamo convinti che oltre allo sforzo di promozione dell'amministrazione comunale sia un connubio fra eventi culturali e fra la parte convegnistica, la parte artistica e quindi un connubio di turismo legato soprattutto al fenomeno culturale che Certaldo offre.